Buon San Valentino a tutti! So che sicuramente non è San Valentino ed è già passato, però ci tengo comunque a farvi sapere che oggi stesso è il 14 febbraio 2022 e ho ricevuto questo mazzo di fiori con delle rose rosse bellissimo dal mio compagno insomma e volevo condividere con voi questa bellezza finché è così fresca diciamo guardate che meraviglia tanti bei tipi di fiori e anche un cuoricino come vedete proprio per San Valentino e avendo ricevuto anche dei macarons non so come si chiamano insomma quei dolcini francesi credo ho deciso di farci un video oltre al fatto perché mi piacciono tanto sono anche belli colorati quindi penso che possono essere un ottimo trigger per il video di oggi allora pensavo anche di fare qualche suono piacevole con questo bel mazzo di fiori è veramente ben decorato tanto tanto bello molto definirei fresco molto femminile e leggero quasi soffice con delle margheritine piccole piccole che danno sempre un po' di campagna nel senso ovviamente positivo nel senso che come se alleggerisse la pesantezza e comunque le rose in sé che sono un fiore lo ritengo un mazzo di rose un fiore molto elegante quasi pesante nella sua elegantezza insomma mentre queste margheritine gli danno quel tocco in più di sofficità di femminilità e quasi di gioventù non certo se una mia ipotesi un po' filosofica questi fiorillini rosa chiaro non ricordo come si chiami non lo sa mia mamma perchè è amante di fiori e delle diverse tipologie poi ci sono anche dei fiori un pochino più oscuri è un viola quasi blu da quanto intenso sembrano dei tulipani ma non ne sono sicura cerco di essere delicata nei tocchi perchè non voglio distruggere questa bellezza però vorrei anche sfruttare perchè mi sembra che molto presto abbassiscano sempre quest'idea dei fiori freschi dei fiori veri non lo so cosa sto dicendo infatti mi dispiace tanto quando abbassiscono perchè sono così belli e vorrei fare più foto più video possibile con quelli veri questo guariggino sono veramente veramente profumatissimi sono veramente veramente profumatissimi sono veramente veramente profumatissimi bellissimi da vedere affolti in queste foglie una foglia questo tessuto molto triggeroso e questa specie di fiocco fiore di my valentine tutto con i cuorecini a tema di san valentino allora spero di avervi trasmesso questa bellezza li ripongo nel vaso che vaso non è perché è una bottiglia di plastica tagliata a metà che per fortuna viene coperta da queste foglie quindi sembra tutto molto bello e prendo i macaroon allora volevo sistemare il mazzo di fiori qua dietro sulle mensoline ma non ci sta è troppo grande troppo 3D ed è anche troppo alto quindi mi limito ad averlo qui di fianco che anche se non riuscita a vederlo ma va bene lo stesso allora i macaroon sono impacchettati dentro questa cartina mi sono limitata ad aprirli in solitudine perché era molto fastidioso il rumore particolarmente irritante e dato che non li avevo aperti prima ho scoperto che non ci sono solo i macaroon ma ci sono anche altri pasticcini come vedete di diverse forme, diversi colori allora direi di farvi vedere i 3 macaroon che sono quello giallo quello blu quello rosa poi abbiamo due pasticcini a forma di pallina con il cocco uno con le noci una pallina deformata e due con questi bellissimi queste bellissime decorazioni bellissimo direi che potremmo partire da questo ad assaggiare anche perché perde queste palline sono tempi qui ho capito la pasta nei quali sono fatti mi fa impazzire sento dentro del liquore la classica pasta italiana che viene utilizzata per questi dolci un po' con dentro il liquore io non sono amante del liquore in generale nei dolci a me piacciono di più le cose pannose dolci e senza l'alcol secondo me l'alcol va bevuto a parte dentro ai dolci non è proprio la mia cosa preferita direi di assaggiarli tutti però per capire qual è il migliore magari proviamo questo qua con le noci qui mi sembra già un pochino più diversa la pasta, l'impasto tutto ciò mi sta crescendo il dente del giudizio una volta quando mangio cose un po' dure mi rimane proprio lì inizia a farmi male tolto tolto questo impasto mi sembra leggermente diverso mi sembra forse un pochino più cioccolatoso rispetto a questo che secondo me è un pochino più liquoroso questo è anche un po' più duretto allora quelli con il cocco credo che siano molto simili a quegli altri primi assaggiamo e invece sono tutti e tre abbastanza diversi tra loro seppur sembrano uguali quindi il cuore quasi non lo sento sento più più aspero non so cosa sia sono curiosa di capire anzi il liquore c'è anche qui cioè in tutti e tre penso però si come se ci fosse un pochino più aggiunta di limone scorza di limone allora vi dirò questi tre cioè anzi uno, due, tre, quattro, cinque, cinque non sono quelli che sicuramente ricomprerei o magari mangerei di mia spontanea volontà però sono belli esteticamente sono molto invitanti allora assaggiamo i macarons questi sono sicuri non è sicuramente un pochino l'impasto è molto soffice ricordo un po' un biscotto soffiato dentro credo che ci sia una marmellata densa di albicocca per niente male assaggiamo con la rosa credo che sia scontato che sia alla fragola penso che sia frutti di bosco questo è ancora più soffice qua l'impasto non è così tanto secco più morbido molto buono manca un po' il respiro questo microfono è più sensibile di quelli che ho cattura ogni rumore soprattutto cattura il respiro che è una delle cose più odiose non ho dimenticato di prendere l'acqua tantissima seta corro a prenderla e torno subito ecco qua il mio tanto desiderato bicchiere d'acqua quando si ha tanta sete l'acqua sembra addirittura particolarmente buona è dovuto penso al desiderio che ho sviluppato nei confronti di questo bicchiere d'acqua allora l'ultimo macaron è questo qui e se non sbaglio quello blu non mi piace mai non so perché eh che bella guardate quanto è blu e non so perché no ho sbagliato penso no quello blu mi piace quello verde è proprio disgustoso non so che gusto fanno in quella pasticceria ma il verde mi ricorda un gusto quasi di carta boh qualcosa di incomprensibile proviamo questo questo è il più soffice di tutti buonissimo qua sicuramente penso che ci sia il cioccolato bianco blanco questo mi piace è così ecco è buono sì sicuramente cioccolato bianco perché non sento gusti particolarmente fruttati quanto è bello però proprio estetico bellissimo il rumorino di questi pallini ne saranno caduti mille per terra macarone aggiudicatissimi mentre tra gli altri pastiggini quello più aggiudicato è quello con le noci è anche quello un pochino più duretto quello che si bilancia di più con il liquore mentre gli altri è proprio forte però sono bellissimi veramente proprio li mangerei solo per quando sono belli ok abbiamo fatto questa mini merendina merendina cioccolatosa merendina cioccolatosa purtroppo non ho più i macarons per fare la foto per il video peccato quindi mi toccherà farla con quello che è rimasto e le rose spero tanto che questo video vi sia piaciuto vi ringrazio tanto per essere stati qua con me oggi i fiori i fiori sono una cosa bellissima vorrei farveli rivedere perché sono belli belli tanto 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 belli non vi dico l'odore di freschezza che emanano le rose infatti adesso la mia missione sarà fare le più foto possibili con questo mazzettino qua perché nulla deve essere sprecato per me vi ringrazio tanto per essere stati qua con me oggi vi auguro una buona notte suonitoro ciao notte notte buona notte ciao